sei un fanatico del vintage? ti piacciono le cose vecchie? ti sono venuti più capelli bianchi che a murigno e adesso hai nostalgia dei bei tempi andati? ammazza se sei patetico ma sky ha pensato anche a te da oggi c'è sky sport 24 retro il primo canale retro di sky sport grazie allo speciale decoder a zampa d'elefante con sky sport 24 retro verrai catapultato negli anni 70 e 80 su sky sport 24 retro di questa settimana il 1972 e le immagini della festa per i 30 anni di fabio cannavaro un luciano moggi giovane e spiantato che nel 75 regala ad un arbitro uno swatch e infine con sky sport 24 retro gossip il 1985 e la love story tra beckham e mindy di morch e mindy fai un tuffo nel passato con sky sport 24 retro e se ti abboni a sky sport 24 retro potrai vedere i tuoi inviati preferiti come erano negli anni 80 negli anni 70 e anche prima sky sport 24 retro è un'esclusiva sky